E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti dateci di spolliciata, devastate il tasto dei like, seguite tutti i network qui presenti, anche Suffering Fiorentina su Instagram è una prece signori, seguitemi su Instagram, seguitemi su Instagram perché è importantissimo come backup mi raccomando, guardatevi tutti i video e le live fatte, però ho detto voglio devastare quest'oggi voglio tornare sull'argomento, a dare carica, a dare veramente bestialità perché poi ho bisogno di parlare di Fiorentina mi manca, siamo in una situazione in cui voglio dire la mia, allora signori a me della Coppa Italia non me ne frega un cazzo come ve l'ho detto prima, chi se ne frega della Coppa Italia, va bene non era il nostro obiettivo, avremmo comunque dovuto affrontare l'Inter, andiamo per gradi non ce ne frega un cazzo della Coppa Italia, ci deve interessare quello sì e ci dobbiamo credere io ci credo, hashtag io ci credo, va bene, all'Europa League, se siete con me, se volete salire sul carro dell'Europa League scrivete nei commenti, hashtag io ci credo con un bel cuore viola, facciamo una cascata di cuori viola perché io voglio l'Europa League e ci credo signori, la Coppa Italia come abbiamo detto siamo all'inizio di un percorso signori, in quest'anno si iniziano a vedere delle germinazioni si iniziano a vedere delle scaturigini di un buon percorso, di percorso classico della Fiorentina avevamo chiesto, guardando alla partita contro la Juve, una prova di maturità da parte di molti interpreti che erano anche arrivati dal mercato con altisonanze, con aspettative questa prova di maturità non c'è stata, l'abbiamo anche detto, complici anche le scelte di Italiano che forse è stato quello che più di tutti ha peccato in questa maturità ma chi se ne frega, i giocatori, la nostra Fiorentina ha adesso l'opportunità di vivere questo finale di stagione per andarsi a prendere quello che secondo me gli merita e quello che è a disposizione quello che possiamo andarci a prendersi, legacy Europa League voglio il quinto posto, voglio l'Europa League e la credo anche possibile perché abbiamo delle sfide di campionato, non abbiamo un calendario impossibile signore non fatevi scagacciare addosso, sento gente che si caga addosso per la Salernitana, per l'Udinese sono tutte sfide alla portata anche contando la situazione dei giocatori che ci mancano poi uno mi dice Milan e Juventus, ma quelle ragazzi, quelle come vi ho detto a parte che mi preoccupavano specialmente quella col Milan anche con tutti i nostri a disposizione la gara di Milano nel mio piano Europa League la davo già, non dico per persa che la do già per persa ma non mettiamoci, ripeto, nelle condizioni di pretendere le imprese e possiamo metterci nella condizione di non dover fare le imprese e di non dover contare sulle imprese se noi facciamo il nostro dovere in partite come quella contro la Salernitana, quella contro l'Udinese quella contro la Sampdoria poi quello che arriverà dai Big Mac dai Big Mac, diciamo Juventus l'ultima giornata può anche essere in influente speriamo e care grazie in positivo e Milano, quello è un discorso a parte ma anche con le nostre assenze se abbiamo la possibilità di battere sia Salernitana che Udinese, che volendo, che Sampdoria io sono convinto che se facciamo il nostro dovere contro queste tre squadre contando anche gli impegni delle competitor perché per esempio in questa giornata le Romane avranno, avranno, avranno degli impegni difficili ok, si spera, per noi quindi noi abbiamo alla portata questo tipo di percorso dobbiamo cagarci addosso per la Salernitana ma con tutto il rispetto a me anche una squadra, la Salernitana per compimento, per come è compita che mi sta simpatica soprattutto per Sabatini e per Nicola che è una persona d'oro a cui auguro il meglio veramente a questo tandem auguro il meglio si stanno facendo bene hanno risalito la classifica sono in ballo per carità ma con tutto il rispetto la differenza tecnica è a nostro favore e anche qui il discorso del dimostrare di valere il discorso del salto di qualità che si chiedeva giustamente in Coppa Italia ora i giocatori e l'allenatore hanno per me il dovere di farcelo vedere in campionato perché questa qualificazione all'Europa League per me è ampiamente possibile e fare il nostro dovere specialmente contro tre squadre è ampiamente possibile si fanno i paragoni italiano-conte lo dimostri lo dimostri lo dimostri è un paragone affascinante è un paragone che ci può stare l'italiano sta facendo un ottimo lavoro io mi aspetto un italiano mentalist un italiano mentadent che carichi i giocatori che dica siamo usciti dalla Coppa Italia non importa ci andiamo a prendere l'Europa League ora l'italiano dovrà dimostrare di essere mentalist di essere mentadent di essere un novello Antonio Conte da quel punto di vista me lo aspetto ce lo possiamo aspettare così come ci possiamo aspettare il salto di qualità anche da tanti protagonisti che finora la loro stagione è un po' in un limbo è un po' in un limbo andremo verso un mercato che a mio avviso sarà importante potrà essere importante per se ci avessi dovrà essere importante non per rivoluzionare la squadra ma per tastare certe ambizioni ok quindi è anche il loro momento non si chiede di rivoluzionare niente non si chiede di stravolgere una stagione si chiede semplicemente di portare a compimento una stagione che già è ottima ma di portarla a compimento avendo qualcosa di gustoso sotto i denti quel qualcosa di gustoso si chiama Europa League io ci credo io ci voglio credere hashtag io ci credo col cuore viola la differenza tecnica è a nostro favore anche con le assenze se abbiamo bisogno che certi giocatori ci facciano capire che cosa sono se Icone è veramente quello che è stato narrato è ora di tirare fuori i coglioni caro Icone così come Cabral così come Nico Gonzalez ok ci metto tanti giocatori ci metto i Sottil ci metto Buonaventura se rientrerà ci metto gli Odriozola ci facciano ci convincano che sono pedine importanti sulle quali possiamo puntare è anche il loro momento io credo che ce la possiamo fare che nessuno chiede imprese non siamo fortunatamente nella situazione di dover andare a vincere a Milano a tutti i costi per dover entrare in una carriera basta solo fare il nostro dovere e non c'è da cagarsi addosso perché sono partite che se tu le prendi con normalità fai solo il tuo dovere ok venendo alla situazione tecnico e tattica contro la Salernitana mi molleggio per gasarmi allora qui non c'è da fare stravolgire il discorso di Cone sicuramente domani chiederanno a Italiano se recepisce ancora questo discorso di Cone come centrocampista io lo eviterei poi se lui evidentemente glielo chiede è perché crede che possa fare quel tipo di discorso ma io non andrei tanto a rompermi i coglioni con invenzioni sperimentalismi protagonismi ci abbiamo Amrabà certo che Castrovilla e cazzo ci ha preso una bella botta e purtroppo un augurio a Castrovilla anche lui se non è una sono due peccato sta sfiga di sto ragazzo gli faccio un in bocca al lupo completo anzi glielo facciamo detto questo abbiamo Amrabat Malè e Duncan io farei giocare Amrabat Malè e Duncan che oltretutto Malè stava anche giocando bene sta giocando bene in sto periodo qua davanti a Salerno cosa farei non mi dispiacerebbe a Salerno tu la partita allora intanto devi entrare in campo devi entrare in campo col piglio non impaurito guardate che visto quello che si sta leggendo visto quello che si sta dicendo il rischio di entrare un po' a Salerno con il piglio cagacciato c'è ma andrà evitato e qui servirà un lavoro di italiano che dovrà dire cosa? cagati addosso no bisogna voi dovete entrare in campo con i coglioni quadri dobbiamo riscattarci dopo la gara di Torino quindi io mi aspetto un grande lavoro mentale da parte di italiano per far sì che la squadra entri in campo a Salerno non cagacciata ok ma con lo sguardo feroce di una squadra che non vuole perdere tempo sa di poter vincere vuole vincere conseguentemente che sia capace di schiacciare l'avversario nella sua area di rigore attenzione perché la gara contro l'Udinese merito per carità la Salernitana però per larghi tratti si è visto un'Udinese che poteva fare diversi gol si è visto un'Udinese molle si è visto un'Udinese sprecona si è anche visto una Salernitana che ha sbagliato diverse palle che sbagliava controlli non sarebbe ultima altrimenti non tra le ultime quindi io mi auspico credo spero e penso ci sia la possibilità se entriamo in campo con il giusto mindset anche con questa formazione qui e con questo centrocampo ok di cercare di chiudere la Salernitana nella sua area di rigore e di cercare di risolvere la pratica legasi fare uno o due gol già nel primo tempo poi puoi anche fare una partita di attesa e di ripartenza senza andare a fare il fenomeno romperti i coglioni perché loro dovranno recuperare e si apriranno spazi e via dicendo ma la partita passa dalla capacità di entrare in campo coi coglioni quadrati con la determinazione andando a voler fare la Fiorentina a Salerno con ancora più cattiveria e cercando già nel primo tempo di rispondere all'ambiente che sarà caricato che sarà iperbarico ma con altrettanta carica e iperbariticità ti chiudo nell'area di rigore fino al 45esimo e ti faccio uno o due gol questa deve essere la mentalità poi al secondo tempo puoi anche aspettarli ripartire se si apriranno delle praterie in ripartenza ok speriamo di recuperare Odriozola che sarebbe anche ora onestamente speriamo stesso Ideon con Patate di recuperare Buonaventura che formazione farei se noi siamo bravi a fare questo in attacco puoi anche far giocare Piontek contro la Serenitana sentite cosa vi dico ho letto anche il caro amico Flavio Ogni Santi che saluto che in teoria vorrebbe cacciargli una domandina su Piontek al buon al buon italiano ok ora io non ho niente contro Cabral anche seppure lui andrà valutato e via dicendo anche lui anche da Cabral mi aspetto un finale di stagione da lui e i conè e signori che ci facciano capire se è pane focaccia polenta e perché perché ho capito io le narrative e via dicendo però bisogna anche un po' diciamo metterci dei coglioni e signori ecco detto questo non mi non mi dispiacerebbe far giocare Piontek perché se tu sei bravo a fare questo che ti sto dicendo cioè a chiudere la Salernitana anche a livello mentale a livello di energie di garra se tu sei bravo a chiudere la Salernitana nella sua area di rigore i primi 45 ecco che ti può servire uno che gli arriva una palla in aria e te la butta dentro ok in questo Piontek mi sembra molto più abile di Cabral Cabral può andare bene in partite dove ti serve un maggior ratio di manovra magari no qui invece cercherei di fare una roba diversa farei giocare Nico Gonzalez ok che non ho visto così pessimo come molti hanno cioè insufficiente la partita per carità però non così pessimo come ho visto dare tanti voti Nico Gonzalez e Sottil farei giocare Sottil perché c'è bisogno di ignoranza c'è bisogno di ignoranza contro la Salernitana bisogna andare cattivi 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 voglio l'ignoranza va bene voglio lui se vedete il tanto criticato Sottil ok che poi anche adesso permettetemi c'è la moda di criticare Sottil che fa 5 minuti a partita perché bisognava far giocare il fenomeno icone capito il fenomeno icone che spesso invece purtroppo vedo molle vedo molle capito Sottil se vedete è l'unico che quando è entrato ha provato a tirare mezz'ora di mezzaluna ai limiti dell'aria l'unico che ha avuto i coglioni la personalità di tentare un tiro è stato Sottil quindi io lo premierai anzi per questo tipo di piccola inerzia e lo metto in campo lo metto in campo anche perché non gli si dà mai fiducia dal primo minuto gliela si dà ad altri che tutto sommato non vedo questa differenza qualitativa perché se guardiamo i vari saponare con e via dicendo hanno tutti dei plus hanno tutti delle potenzialità ma non sono se guardiamo le ultime gare indenni neanche loro da situazioni varie siamo tutti sullo stesso piano in questa partita che non si facciano figli e figliastri in questo finale di campionato avremo bisogno di tutti e non di solo alcuni o via dicendo perché poi le critiche vanno sempre a colpire i soliti poveri sfigati poi invece ci sono gli intonsi che sono esaltati dalla critica magari giocano anche peggio rispetto a quelli che sono stati pagati molto meno però su quelli non si può dire niente e invece mi dispiace qui non funziona così quindi io farei giocare sottile ok perché avremo bisogno della sua anche personalità della sua esuberanza avremo bisogno io voglio con tutto rispetto perché ripeto stimo stimo il fare calcio salerno per come si sta dipanando ultimamente ma così come istrionicità bonaria me la concederete sogno un sottile che va sotto la curva a fare così con polemiche a non finire capito così tanto per gradire poi ci si stringe la mano ugualmente ma per fare show quindi voglio la devastanza e l'ignoranza con Nico González Sottil e anche un Piontek un centrocampo bello tignoso muscolare che può anche essere una cosa positiva Marbat Duncan e Malé non è un centrocampo da buttare io ci credo assolutamente per sto finale di stagione per queste partite sperando di recuperare Torreira con la Roma difesa speriamo Odriozola siano venuti Milenkovic Igor quarta decidete voi tanto non cambia niente per la partita che dobbiamo fare Biraghi a sinistra e Terracciano in porta e Terracciano in porta questa è la formazione con la quale inizierei mi terrei Icone in panchina se c'è bisogno per farlo subentrare ok se vedi che c'è bisogno di tecnica per aprirla e via dicendo puoi far entrare Icone ti ci puoi dare saponare ti ci puoi dare Icone ma non inizierei con Icone perché l'ultima partita o delà del ruolo sbagliato che gli ha dato che gli ha dato italiano mi ha un po' deluso dal punto di vista della personalità ma senza dare giudizi definitivi semplicemente in questo momento qua in una partita come quella contro la Salernitana preferisco partire da Sottil e con tutto il rispetto del mondo poi nel caso fai entrare Icone che ha assolutamente la possibilità anzi credo io il dovere assieme ad altri di dimostrare di dire cazzo io ci sono per l'anno prossimo potete contare assolutamente anche su di me quindi Sottilnico Gonzales spionte anche Cabral eventualmente se c'hai bisogno lo fai entrare a gare in corso Duncan Amrabat e Malè e difesa classica sperando di recuperare Odriozola state attenzione hashtag io ci credo perché abbiamo un finale di stagione nel quale diversi giocatori hanno la possibilità in positivo di poter dimostrare di essere delle pedine importanti anche per la Fiorentina che verrà la Coppa Italia non me ne frega un cazzo anzi mi ha gasato un utente sapete cosa vi dico mi ha gasato un utente che ha scritto un commento non so chi era ma lo ringrazio e lo bacio va bene gli dico mi ha gasato e ha scritto volevo uscire contro l'Atalanta ha ragione col senno di poi pensate quante energie in più magari avremmo risparmiato e ci sono quelli che si dannano l'anima si frustano perché non vince chi cazzo se ne frega a me è di vincere contro la Juve e di fare campionati sterili non me ne frega un cazzo ma viva i campionati nei quali perdevamo 4 che abbiamo perso un anno mi pare che abbiamo perso con Montella se non ricordo male abbiamo perso 4-5-0 con la Juve e siamo arrivati i quarti meglio così meglio così va bene se no vi andate a vedere la Fiorentina di Prandelli dello scorso anno che abbiamo vinto 3-0 a Torino con la Juve ed eravamo in fatica a salvare a me ne frega un cazzo dei risultati contro la Juve la Juve fa il suo campionato la Juve ha una squadra con la quale non puoi ci confronteremo con la Juve quando avremo la parità di classifica quando lotteremo con gli stessi obiettivi della Juve con la Juve ci si confronta l'Inter ci si confronta il Milan intanto noi pensiamo a confrontarci già con Lazio Roma queste squadre qua l'Atalanta che sono i nostri rivali la Coppa Italia devono vincere altri non noi ci penseremo poi eventualmente ok anche sta cosa che la Juve i gol con la Juve ma chi cazzo se ne frega ma io se arrivo se io so di arrivare quinto ve lo dico se mi dicono arrivi quinto ma l'ultima giornata perdi 4 a 0 con la Juve dove è la penna e firmo dove basta questo provincialismo del cazzo di misurare le stagioni in base a cosa facciamo contro la Juve ma se vada a fare il suo campionato la Juve noi facciamo il nostro e abbiamo tutte le possibilità per fare un ottimo finale di stagione l'italiano è un grande mister anche lui deve maturare in alcune cose l'abbiamo visto in diverse volte per carità di dio ma la stagione finora è ottima si dimostri un grande mentalist un grande mentadent qualche giocatore tiri fuori i maroni che lo può fare che ha le potenzialità per farlo stringiamoci evitiamo di fare figli e figliastri disfattismi vergognosi che c'è tutto alla portata e non fatevi abbindolare dal calendario dalla combo calendario assenze perché le tre partite che vi ho detto sono alla portata anche con gli infortunati che abbiamo posto che anche magari pure le altre squadre avranno gli infortunati le gare contro Milan e Juventus non è neanche mettiamoci nella condizione di non dover fare l'impresa e la gara con la Roma che è un po' il nociolo è il concetto ghianda di questa stagione la gara con la Roma lì sì magari conterà un po' di più il particolare cerchiamo di recuperare a tutti i costi Torreira ma anche lì ci possiamo arrivare in casa e dirla nostra intanto pensiamo a portare a casa i risultati con queste tre squadre che sono assolutamente alla portata se tu porti a casa i risultati con queste tre squadre che sono per me alla portata perché l'Udinese è una buonissima squadra ma in casa abbiamo quasi sempre vinto la Salernitana è ultima con tutto il rispetto la Sampdoria del Maestro sta facendo una stagione obrobriosa e può essere che la affronteremo in un momento nel quale non avrà neanche obiettivi crediamoci io ci credo non facciamo figli e figliastri focus sul campionato frega un cazzo della Juve frega un cazzo della Coppa Italia si facciano le cose semplici si vada avanti e forza Fiorentino e forza Fiorentino